Dunque, entriamo nel vivo del pensiero di Kant, analizzando la critica della ragione pura, opera in cui, oltre o dopo aver analizzato quelli che sono i giudizi, Kant analizza quella che è l'architettura della ragione umana. Allora, vediamo già l'architettura della ragione umana, ossia i tre gradini della conoscenza, le tre facoltà che qui vedete, sensibilità, intelletto, ragione, attraverso cui l'uomo può conoscere. Ecco, l'opera, la critica della ragione pura, ha una struttura complessa e rigorosa, proprio perché, secondo Kant, deve riprodurre proprio l'architettura complessa e rigorosa della ragione umana, che si articola attraverso queste tre facoltà che sono appunto sensibilità, intelletto, ragione, tre facoltà a cui corrispondono tre modi e tre gradini della conoscenza umana. Allora, sensibilità, intelletto, ragione, sono appunto tre facoltà attraverso cui è possibile la conoscenza. Hanno, e questo è importante, delle forme a priori, che permettono di creare una rappresentazione della realtà, rappresentazione attraverso cui l'uomo conosce la realtà. È importante il fatto che abbiano delle forme a priori, perché, appunto, Kant parte da quello che, secondo lui, sono i giudizi veri e propri, che sono i giudizi sintetici a priori. Queste tre facoltà sono anche tre gradini della conoscenza umana. Hanno delle forme a priori che permettono di creare una rappresentazione della realtà. Attenzione, questo è un concetto importante. L'uomo non conosce la realtà per com'è veramente, ma solo perché la nostra mente si crea una rappresentazione. La nostra mente, attraverso queste forme a priori, si rappresenta la realtà. È questo l'unico modo, è l'unica cosa che l'uomo conosce del mondo. Allora, qui vediamo i tre gradini. Il primo step, che è quello della sensibilità. Il secondo, appunto, dell'intelletto. Troviamo poi una rottura, una frattura, diciamo, no? Un limite che divide sensibilità e intelletto con la terzo gradino, la terza facoltà, che è la ragione. Ricordiamoci, appunto, di questo limite tra le prime due facoltà e l'ultima. Partiamo, allora, dalla prima facoltà, la sensibilità. Ogni conoscenza, secondo Kant, inizia con l'esperienza. Ossia, con il fatto che l'uomo percepisce degli oggetti esterni attraverso i cinque sensi. Quindi la sensibilità parte, inizia appunto a conoscere attraverso la percezione, attraverso i sensi. Sensibilità è la facoltà mediante cui gli oggetti esterni sono dati all'uomo, cioè sono colti dall'uomo, sono rappresentati colti dall'uomo. Quindi in questo modo inizia l'uomo a conoscere gli oggetti esterni. Analizziamo, allora, questa facoltà. La sensibilità, dice Kant, è sia passiva, cioè riceve dati dagli oggetti esterni in modo passivo, senza far nulla, è allo stesso tempo però anche attiva, perché tutti i dati che arrivano dagli oggetti esterni, tutto il materiale, sono organizzati nella mente umana mediante due coordinate. Queste due coordinate sono le forme a priori della sensibilità. Forme a priori nel senso che sono innate, esistono prima di ogni esperienza, e sono le forme che permettono alla sensibilità proprio di organizzare questo materiale che arriva dall'esterno secondo appunto queste due coordinate, che ora vediamo. Le forme a priori della sensibilità, queste due coordinate, sono lo spazio e il tempo. Possiamo conoscere un oggetto solo collocandolo in un determinato luogo e in un determinato tempo. Lo spazio è, dice Kant, la forma a priori del senso esterno, cioè ci permette di cogliere gli oggetti esterni. Rappresenta gli oggetti collocati gli uni accanto agli altri, in questo modo possiamo situarli in un determinato luogo. Il tempo, invece, è la forma a priori del senso interno, ci permette di cogliere i nostri stati interiori. Rappresenta gli stati interiori uno dopo l'altro. In questo modo si crea un'impressione che gli stati interiori si succedano uno dopo l'altro e quindi questa successione dà vita a quello che l'uomo percepisce come passato, presente e futuro.